Anni che perde così vabbè In tutto questo Frankfurt è lì di Saint-Germain's League Wolfsburg è l'Everkuss, l'Europa League con l'Ufene che si giocherà la compresa e la stagetta l'Ufene League Tornando all'Europa, regà, è sempre la stessa storia è sempre la stessa storia Vabbè, vediamo chi ha vinto il titolo di Capocadenele quest'anno Yusuf ha un poco con solo 20 gol Andiamo con il primo che andrà perché vi posso dire che non c'è qualcosa Visto la real società di Ufinei di Champions League Il Manchester City che vince l'Europa League e ha reso diecissima finale di compresa 20 in WP Alla cosa è questo ultima E con un bel tizio in tutto questo vince la sua terza, non c'è bocca Ma in Cepania continua il primo fino ad aggiungere la Champions League Infatti, in quinta che quest'anno in Europa League sarà una coppia O qui la è vinto la Champions League Mentre il Champions è andato con lo stocca La sorpresa, bella squadra di Stocca Il corruzzo è l'opera, la figlia per cose E la squadra che per la serpia ha vinto il titolo E con un'altra fede E con un'altra fede Si salva in play out Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.